Cucina Cristel Chico, Chico e Marco Buongiorno Cristel Buongiorno Ciao bellissima Come stai? Bene, grazie a voi come va? Non ho capito bene quella cosa dalle condivisione Delle cosenze Non ti preoccupa, poi ti faccio un disegnino Va bene Oggi faremo una ricetta Che ricetta? Tu rimani così tutto il giorno? Tutto il tempo e vi dico come fare Ah, mi piace Quindi oggi cuciniamo io e Marco Oggi cucina Marco e Cucco Marco e Cucco Marco e Cucco è un bel nome Marco e Cuoco stava dicendo Pippo Marco e Cucco mai E vi vorrei dire perché ho scelto questa ricetta Anche io ti volevo chiedere Perché hai fumato la prima macchina? Non si fa Perché sapevo che avrei dovuto sopportarmi Oh cazzo, che brava Ho scelto qualcosa perfetto per i single che non sanno cucinare Perché è molto semplice però fate un figurone Infatti ho pensato a te Ah, vedi? Non è il tuo caso perché finalmente a te ci abbiamo accoppiato Ecco qua Quindi posso cucinare e invitarti a cena? Volendo Volendo se un giorno dovessi darti il mio numero Ecco Potrebbe essere Potrebbe essere, va bene Quindi faremo bruschetta con patè di funghi e burrata in basilico fritto Ma che cosa? E non sarà difficilissimo Sarà difficilissimo in verità no Una bruschetta Allora iniziamo Da Io direi che però dobbiamo utilizzare questo Esatto Io non lo indesserei Lascerei a me Indesseremo 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 многomqui Complimenti per il colore del greviolino Veramente me Grazie Che colore Rosa, fucsia Questa è così Ah, vedi, ora sei La regina di questa cucina Beh, dai, iniziamo a fare le bruschette Come si fanno le fruschette? Siamo già dimenticati del mio amico piccoletto Del mio tuo buon Ah, tu hai un tuo buon E' senza la spesa Come Gigi della spesa Casualmente entra Gigi della spesa Eccolo Inguardabile come senti Grazie Buon procedimento Buon proseguimento Ma non lo mandi mai in un negozio di abbigliamento? E non c'è tempo Perché ha troppe cose da fare Ma no, no, ragazzi Allora, che cosa ha portato Buon procedimento Olio, pane E fa bruschetta Neanche a farlo noi Pacco intero di sale Oh, per caso E sale E l'olio Ehi E che pulisce dopo? Queste le cose Brava Gli oscidi qui puliscono anche Brava, brava Allora, sempre l'aglio L'aglio ogni presente Olio Olio ha un sapore molto intenso Come i migliori oli pugliesi hanno quel sapore Quale? Quale sapore? Quello di oliva Che senti proprio il frutto Senti proprio di oliva Brava, brava Ma pizzica un attimino e dolce Dipende Questo può essere Perché non lo sa Perché non lo sa Perché non lo sa Perché non lo sa L'olio fruttato deve essere buono l'olio fruttato Un olio un po' tannico Un po' tannico Lo davano su Telenorba da piccolino Lo davano? Quello la guardavate Telenorba? E' una serie di televisi Sì, tannico TV Che dobbiamo fare con questa cosa Che è accesa e si sta Metti dentro l'aglio Ci lanci dentro un po' d'aglio Perché non si può soffreggere Facciamo soffreggere Ma è accesa la fiamma Sì, sì, sì Non c'è fiamma drogato È elettrico Ma quanto vi insultate da ora a dieci? No, no, questi sono i complimenti Vuoi sentire gli insulti? No, no, no Non serve Non posso fare Ma vi siete mai veramente Avete mai veramente litigato? Abbiamo mai veramente litigato? Sì Ma sul sedi Ti vuoi raccontatemi una vostra? Sul serio? Mega, mega litigata No, capita che per un anno Siamo tranquilli d'amore e d'accordo Poi accumuliamo, accumuliamo Come le coppie Come marito e moglie Arriviamo e poi ce le diciamo tutte quante Queste sono le motive Come gesticola E poi ci andiamo a fare Un weekend fuori Insieme Lui lascia la moglie a casa No, sì Litighiamo Ma servono le liti Perché le liti da Allora, Cristel Ragioniamo Pino perché devo andare in ospedale Che mi è arrivata una boccia d'olio I frutti fruttati sono arrivati Ma racconti Io voglio esaltare Prove il succo Il succo Raccontatemi cose proprio Una lite Io ho paura Tipo anche la cosa peggiore che una ha fatto all'altro La cosa peggiore che una ha fatto all'altro Un tradimento con un altro comico No, peggio C'è stato di peggio Messaggi flertosi con un altro comico Messaggi no Quello no Ci siamo sempre amati Ecco qua Ecco qua Che succede questa mattina? L'ho detto Ha aumentato il dosaggio Bene Può essere Un coltello Un coltello Dove stanno i coltelli? Dove stanno i coltelli sono qua Buone palme passate Lì, lì, lì Tieni tanti auguri Togliti Prendo quello da pane Non abbiamo mai fatto liti vere Sì, una volta l'abbiamo fatta Praticamente io Chiesi gentilmente a chi? Eh non mi cacano Io parlo e non mi cacano Stavamo semplicemente Niente, praticamente io lasciai Cioè non lasciai Non sapevo come lasciare una ragazza E me ne andai Nel Salento in vacanza Chiamai Chico Dici Chico fammi una cortesia Lasciala tu per me Ho preparato le valigie della mia ex Non è che gliele vuoi portare a Foggia Ma dai Te lo giuro è successo E' andato veramente lui Sono andato veramente Va bene, ma questo è un bellissimo esempio di amicizia Bravissima Peccato che è stato sequestrato dalla madre della mia ex E gli diceva in continuazione Infine ha fatto Marco Perché ha lasciato mia figlia E gli ha fatto un po' di paranoia Se l'ho stato sequestrato a Foggia Quindi immagina un po' Questo per amicizia Ma tu non hai mai pensato di lasciarlo per un altro? No, no, no Lasciarlo ma vittilo quanto è bello Tutto giuditoso, bellissimo Io sì Io sì Hai pensato di lasciarlo? Sì tutti i giorni sinceramente E però Ti senti già con qualche altro? No, no, faccio da solo Ah vai da solo Ho già scritto dei monologhi Infatti ogni tanto ho fatto qualche attentato È vero, è vero Ma non muore mai Non muore mai Senti, sai che nella cucina Se non sei onesti Non esce bene il piatto Brava, brava Quindi Che devo fare? Voglio sapere Segreti Segreti? Segreti che vi tenete l'uno dall'altro Che possiamo adesso aprire e mettere alla luce del sole Se sono segreti li dobbiamo dire giustamente in tv così Ah dai, no a me A me la dovrei dire Ah li dobbiamo dire a te? Sì, sì dai Ti raccontami Ma la vuoi finire? No, no era giusto per capire Niente allora L'unico segreto che ti posso Siamo vecchi di pane Un segreto di No, che non ci siamo Ma un segreto che non ci siamo mai confessati fra di noi Eh, tipo tu che segreto Una cosa che hai fatto e adesso vorresti Chico perché ti trovai in camera da letto mia? In camera da letto tua con tua moglie? No, è perché mi aveva avvisato tua moglie che non andava il letto Non andava il letto E dove ho sistemato? Che letto va, vero? No, non in quel senso Stavate insieme stamattina, vero? Ce l'avevate a molle Lei voleva o voleva il lattice Ti voleva fare una sorpresa Tu non sei intollerante al lattice, vero? Io non sono intollerante al lattice E ha detto Dove è il video dei limoni? Cambiamo argomento Ma di là il bidone No, adesso io voglio sapere Tu, che cosa non vuoi confessare? Non ho capito Non riesco a sentire Non stai frullando niente Non stai frullando niente Non hai mai nascosto nulla? A chicco? Da quanti anni è che hai lavorato insieme? 11 questa volta In 11 anni Quanti cavolo di segreti vi siete tenuti? No, mai, mai Ci diciamo proprio tutto Secondo me tutti i ritardi di chicco Mi spara una cazzata diversa ogni volta Sicura? Il problema è che mo li sono morte tutte le nonne Mo voglio vedere che cosa devi dire Ne ho ancora altre tre Sì, che prima era la nonne Mo e... E tu quelli segreti Dili qualcosa Adesso è l'occasione perfetta Se ti vuoi levare qualcosa dalla coscienza Dai, togliti qualcosa dalla coscienza Togliti qualcosa dalla coscienza Ma se non ce l'ho perché devo... Oh, sta facendo un rumore bruttissimo Ma l'aglio l'abbiamo pulito? No, l'aglio va in camicia Perché risulta più leggero Dai Ecco, non capisci niente Racconta, racconta Che devo dire? Questa è un luogo sicuro Perché ti devi fare i fatti degli altri? È un luogo sicuro Confessa, confessa Cosa devo confessare? Confessa a zia Cristel Zia Cristel Come fa ad essere mia zia se... Non posso Di un piccolo di te? Confessa a zia Cristel Zia Cristel, io guarda Ti voglio ricordare Che sei troppo attaccata a zio Marco Zio Marco, fino a un certo punto Perché ti voglio stare vicino Nel tuo momento di confessione C'è un problema serio Oh yes, oh my god No, Marco, allora, per favore Confessa Vabbè, giuro, confessa Confessa No, ti devi togliere molto l'opera In questa posizione Confessa No, veramente È una scena meravigliosa Ti sto per leccare la guancia Confessami adesso Cambia canale Dai, raccontami qualcosa No, no, per te scherzi Non c'ho niente da confessare a quello Io subisco Forse non è chiaro No, la cosa bella è che ci siamo sempre detti tutto Anche ragazze Siete due contapalle A dei livelli avvicinanti Allora, la settimana scorsa E sai come si dice Non contare palle è una contapalle Brava, infatti Cioè, per esempio Quante palle hai contato in vita tua? Io tantissime ne ho raccontate Per esempio Per esempio C'è già chi stai chiedendo a noi Raccontaci una palla Come si dice occhio per occhio Occhio al quadrato Facciamo un scambio di confessioni Facciamo il gioco della bottiglia a sto punto Così possiamo fare Ha detto sì Ha detto sì Comunque ragazzi Non è che vorrei dire Ma dovrebbero essere quasi Quasi funghi Siamo a fare il gioco della bottiglia Vai, vai Perché se si spacca la bottiglia Si apre la bottiglia di olio A chi va la bottiglia deve raccontare Ma stamattina ho avuto un vino bianco Bacio, bacio, bacio No Tu devi dire bacio Poi l'altro che esce Allora io non bacio No, non avete capito questo gioco A chi va la bottiglia deve raccontare una professione Buone palme passate Siete impossibili Ragazzi ma vediamo di fare le brusche Qual era la ricetta di oggi? Io già me la sono dipendita La bruschetta La bruschetta Il mio robottino Che attenzione perché non è in wireless Ciao Quindi quante corne hai fatto una tua vita Tante Ah devo dire proprio Sì vabbè tanto mi sono lasciato Quindi è capitato Qualche volta è capitato Nella storia Non dovevo dirlo Chico bene da me a confessarvi Le corna di una sua ex Ma ti rendi conto che quella Mi si è messo con un auxilio del traffico Niente con un vigile Cosa che c'è? A me sa cosa mi ha fatto ridere un bordello Ma pensate quanto sfigate Cambiamo il discorso E fare Che questa che cos'è? Burrata Ah burrata Burrata Tipica pugliese Un po' di pepe Quella proprio come l'olio Raccontami la burrata di Puglia Com'è? È soffice e buona Sì come i funghi che volano Ok Perfetto Ok sei stata meravigliosa Non è caduta una goccia Niente È una burrata pugliese È buonissima Questo qua non lo faccio io No a parte di scherzi Cioè se vuoi fare colpo Questo è il decisamente Colpo nel senso che lo devi buttare a pressa uno No 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 Ma dobbiamo fare un cocktail a base di burrata E poi lo beviamo Stiamo facendo un patè Ah un patè di? Vai con patè Vai potete raccontarmelo adesso C'è anche quello là Raccontatemi i segreti Capito Non ci credo Eh c'avevo un patema d'animo Come ho voluto? A fare cosa? Mi piace lo sai Allucinato Ecco il nostro patè di Puglia L'intruglio L'intruglio Tostiamo il pane Vai vai a tostare il pane Come si sta capire? Ora stiamo il pane sulla padella Ma il sacco qua ci l'abbiamo messo Devo girare ancora? No Il sale l'abbiamo messo Metti un po' di sale che ci vuole sempre Perché il sale da... Piacere il sale? Sieni Porta male? No no Ah Kiko Sì 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 Mi ha messo il sale i capelli Guarda E adesso? E adesso Andremo a riporre questo qui Io sto facendo bruschettare il pane Dobbiamo mettere un altro po' di aglio Non si sa No quello appunto Ah sai com'è un trucco? Quale? Ah ci dà anche i trucchetti di Cristela In onda sui telenova Si toglie l'anima dell'aglio Si toglie l'anima è vero Qual è il trucco? Il centro Il flacco No ti vai a sfregare un po' di aglio Quando una pentola non vuole Mi fai per caso scottata? Però le mani non le devi mettere Allora bambini a casa Quando una pentola è sul fuoco Non dovete mai soffare Io vi sto facendo vedere cosa non fare Mi raccomando Senti che buon odore di aglio Quindi stai praticamente sfregando l'aglio Sulla bruschetta Sulla bruschetta Se glielo spiego io come si cucina Abbiamo anche Tutto pandan Tutto pandan Tutto pandan C'è uno di un bel Oh yes oh yes oh my god Oh my god Beh e allora E allora Io direi che ci siamo qua Ma non si sta bruschettato per niente Magari lo facevamo prima sto fatto No 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 ma vedi che Ci siamo Ci siamo Ci siamo No non ci sono bruschette pronte Dai Io voglio cacciare Facciamo finta che siano bruschettate Senni tutto sarebbe bellissimo Se il fornello fosse acceso Ah l'avevi spento pure Io Che genio Adesso questo qui lo spaviamo Sui capelli di Cristelle E uscirà il color di un altro Sì? Ma nella vita reale No tu chiesti amicizia sul Facebook Facciamo un selfie Sì E le persone a casa Vedono il selfie Poi lo mettiamo Cui Bellissimo Meravigliosa Fantastico In ogni trasmissione Se non fai il selfie Non è una buona trasmissione Bene augurante Grazie Voi usate i social Sì 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 Abbiamo la nostra pagina ufficiale Lui è più nerd dei due Se proprio lo dobbiamo E lui lo usa di più Allora Già che hai detto nerd Spiega che cosa significa Gli amici a casa Nerd Niente uno che sta a casa Ma è niente 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 No nerd Nerd È proprio la cittura È colui che ha troppo attaccato I computer È perché lui lo usa per rimorchiare Ah brava Verdadissimo Faccio un'altra domanda a Marco Per capire Marco che cosa è un fake Non lo so Però il signore dei computer Che è una cosa brutta Vedi allora Bene o male qualcosa La sarà imparata No il fake dovrebbe essere Tu sei un fake per esempio Perché sono un fake Ha ragione Dove è la Trova Trovami questo cucchiaio Io sto cercando Non c'è niente Abbiamo 60.000 strofinacci Cerca di un cucchiaio Ma non abbiamo un cucchiaio Eccolo Eccolo Ce l'abbiamo Eccolo Ce l'abbiamo Ma noi L'avevamo già trovato Ce l'avevi già Io non è che vorrei dire Però il cucchiaio È di colore azzurro Non è che costona Con l'abbigliamento Ma ci vuole un piatto Per servire Che dici Per metterli La pirofila La pirofila Che ne pensate Ma guarda Devo dirlo Devo essere proprio sincero Guarda veramente Se fossi in tribunale Dovrei dire la verità Siccome non lo sono Davanti a un giudice È vero È benissimo Bene Non è bellissimo Io scelgo qualcos'altro Cristel Scusami Cristel Ma un po' di pepe sopra Non ce lo mettiamo Adesso ce lo mettiamo a crudo Poi sarebbe bello Avere un bel piatto Di rappresentanza È quello che sto cercando Il piatto di rappresentanza Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Il piatto di razze Sì ti voglio stasera Che cosa? C'ho un sacco di cose da fare C'ho un sacco di cose da fare Ok Va bene Mirko e Cocco Andatevi a sedere Marco e Chicco Mirko e Cocco Fammi andare Che se non mi ha Comunque vai a essere roba buona Carmine e Mirko Io me ne vado Ah proprio così Vabbè Ci vediamo tra un po' Ciao